Siamo a Mercogliano accanto alla funicolare, nella giornata di ieri è partita la stagione estiva con corse in tutti i giorni della settimana tranne il mercoledì e nel fine settimana spazio anche a corse pomeridiane. Promessa mantenuta da parte dei vertici dell'AIR, i quali nel nostro servizio è andato in onda il mese precedente ci avevano assicurato che l'impianto sarebbe tornato in funzione perfettamente a metà giugno per il calendario estivo. Dopo i lavori di manutenzione e prevenzione la funicolare torna a compiere il suo tragitto dal comune irpino fino al santuario di mamma schiavona e viceversa. Più nel dettaglio, da lunedì al venerdì le corse saranno solo mattutine mentre il sabato e la domenica sarà possibile usufruire del servizio di mobilità anche il pomeriggio. Il mercoledì invece l'impianto resterà chiuso ma sembra che sia solo una condizione momentanea. Per quanto riguarda le tariffe, un bietto di andata e ritorno costerà 8 euro, una corsa semplice 5. Per le commitive di almeno 20 unità ai residenti invece il prezzo sarà di 5 euro. Infine un costo sarà imposto anche sul trasporto a biciclette con la modica somma di 1 euro. Dunque un'ottima notizia per i fedeli che ogni anno sono sempre in tantissimi a regarsi al santuario di Montevergine. Con la funicolare perfettamente funzionante, il comune di Mercogliano potrà rendere un ottimo servizio che certamente soddisferà le aspettative.